Musica Utenze non pagate dai nomadi per 47.000 euro o forse più. Il centro-destra chiede che l'amministrazione risolva questa situazione una volta per tutte. Inoltre chiede che all'assessore Isabella Sala vengano tolte le deleghe. 47.000 euro di utenze non pagate dai nomadi. Sì, fino a ottobre 2016, mancano ancora gli ultimi sei mesi. Abbiamo chiesto i dati che Acqua Vicentina ci fornerà a breve, quindi sono molti di più. Riteniamo che i nomadi debbano ovviamente onorare il loro pagamento. Il contatore intestato al comune di Vicenza, il quale per un anno non ha ancora provveduto all'intestazione dei contatori alle singole famiglie, riteniamo questa cosa scandalosa e la dimostrazione di un'incapacità manifesta da parte dell'assessore ai servizi sociali, quindi Isabella Sala, di governare e di gestire quella delega. Chiedete quindi dei provvedimenti che per ora non arrivano? Sì, siamo anche un po' sconcertati perché il sindaco non interviene sull'argomento, anche perché l'assessore è una nomina fiduciaria del sindaco. È l'ennesimo errore che questo assessore compie e nessuno interviene. Riteniamo quindi di dover presentare all'interno di un dibattito in Consiglio Comunale un ordine del giorno con cui chiederemo la revoca delle deleghe. Tante famiglie italiane in difficoltà che se non pagano le utenze naturalmente si ritrovano senza acqua, luce e gas. Sì, infatti l'abbiamo sottolineato, cioè un qualsiasi cittadino si trova prima la messa in mora e dopo il distacco del servizio, che sia luce, acqua e gas. Riteniamo che questa cosa sia inaccettabile e che giustamente i cittadini si lamentano di questa cosa. Quindi bisogna far rispettare le regole a tutti. Questa amministrazione non è riuscita in dieci anni a far rispettare alcuna regola ai nomadi. 47.000 di utenze non pagate dai nomadi, l'amministrazione comunale non sta facendo assolutamente nulla. No, l'amministrazione comunale non sta facendo nulla dal 2015, quando noi come forze di minoranza e di opposizione in Consiglio Comunale avevamo chiesto di avere accesso alle bollette che non sono pagate. Oggi siamo nel 2017 e la somma continua ad aumentare. Noi chiediamo una soluzione da parte del Comune, chiediamo il ritiro immediato delle deleghe all'accessore Sala che si è dimostrato incompetente e chiediamo anche a Variati che porti in Consiglio Comunale un piano di rientro per far pagare questi debiti ai nomadi. Cittadini di serie A e di serie B? Ma io lo chiamo razzismo al contrario in questo caso, perché Variati si è dimostrato razzista nei confronti dei vicentini e benevolo nei confronti dei nomadi che da anni non pagano le bollette. Noi chiediamo una soluzione e deve essere una soluzione definitiva.